Buongiorno, bentornati e benvenuti sul canale, oggi è 27, grazie mille, grazie mille, merci Stiamo uscendo da Sfax, ragazzi qui le precedenze non bisogna darle, abbiamo capito che bisogna essere un po' prepotenti e però dovete avere sempre gli occhi aperti perché Abbiamo lasciato Sfax e abbiamo deciso purtroppo di fare un pezzettino di autostrada Lungo l'autostrada vi troverete anche questi piccoli capanneti dove si vende sia da mangiare ed alcuni vendono anche la benzina La temperatura oggi è folle, è folle, è folle, siamo partiti con 8 gradi, a un certo punto è arrivato a 13, poi è uscita a 7 gradi Di colpo da 8 dell'autostrada abbiamo fatto 10 chilometri, quindi ci siamo arrivati a 21 gradi Ecco qua il mercato Questo è già un paese grande Il paesaggio è cambiato nuovamente, dalla sabbia alla terra rossa Facenzia Ovviamente loro costruiscono le case sottoterra Così tutti la ricchi, così, tutti Il parretto berbero Ecco sto riprendo Questo senso di libertà è impagabile ragazzi E' forte, vediamo soltanto questo e fa caldo Oggi è 27 dicembre, 25 gradi, cosa vuoi di più della vita? Ragazzi queste sono le casse di pietra che vedevamo dall'alto Tutto gi**o I matti, ti volevi perdere nella Tunisia vera? Ecco, soltanto io a te stiamo qua Ragazzi la strada è fantastica come anche la giornata Adesso ci siamo fermati in questo paesino Tra il nulla e l'addio Perché ci occorre prelevare Insomma tutte le buche che non abbiamo preso in posti sperduti Stasera voglio mangiare bene però Un risortino, una pallata cinta E qui sono altri granai ragazzi Tutti fatti in tetracotta C'è tantissimo Probabilmente ne bastava una sola